E' massima allerta per gli occidentali residenti in Mali dopo l'attentato a Bamako. Parigi ha invitato i connazionali a prestare la massima attenzione. L'attacco è stato condannato da più parti, Stati Uniti e Francia in primis. Il segretario di Stato USA, John Kerry, a Parigi per un incontro dedicato alla politica estera, ha rilasciato una conferenza stampa assieme al ministro degli esteri francese Laurent Fabius, che ha condannato l'atto terroristico. Il presidente francese e quello del Mali hanno deciso di prendere misure comuni per rafforzare la sicurezza nel paese. L'attentato è stato condotto nel momento in cui i ribelli Tuareg del Nord sono sotto la pressione dell'ONU per firmare un accordo di pace con il governo entro fine marzo. Anche il ministro degli esteri belga Didier Renders ha parlato di terrorismo condannando il vile e spaventoso terrore che ci ha colpiti. Per l'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini l'attacco rafforza l'importanza di concludere un accordo di pace in Mali e rafforza la determinazione a lottare contro il terrorismo.